Luigi Randazzo, Centro Sportivo Giulio Nesti, il primo raduno con l'Italia Vera, che emozioni ci sono? Diciamo che è una grandissima emozione, perché sì, è il mio primo vero raduno con l'Italia Vera, già abbiamo fatto due altri raduni in cui stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene, con standi e speriamo che andrà sempre meglio. Aspettative da questa World League? Ma sono tante le aspettative, abbiamo una squadra forte, poi dal canto mio io sto cercando di inserirmi sempre di più giorno per giorno e cerco sempre di fare meglio. Ultimamente hai un grande entusiasmo, penso lo stesso entusiasmo che avrai se torni a giocare a Macerata con il tricolore sul petto? Ma sì, quello assolutamente, io ho sempre un grandissimo entusiasmo, soprattutto se per caso tornerò a giocare a Macerata. Per adesso ancora non si sa nulla, vediamo cosa loro vogliono fare e poi in caso vedremo.